Oggi definiamo insieme la buyer persona del nostro hotel Ciao sono Alezza e benvenuti in questo nuovo video dove creeremo insieme la nostra buyer persona per il nostro hotel Già in un altro video precedente ti ho parlato di questo concetto un po' più in generale Se non l'hai visto ti invito ad andarlo a vedere Ma vediamo velocemente il concetto La buyer persona è un personaggio fittizio con delle caratteristiche ben precise Che ci aiuta a capire chi è il nostro cliente tipo Perché dobbiamo sapere chi è il nostro cliente tipo? Lo dobbiamo sapere perché dobbiamo incentrare poi su di esso tutta la nostra comunicazione E quindi tutto quello anche che offrimmo ai clienti, veri servizi, come proprio gestiremo la nostra struttura Sarà costruito attorno ad esso e quindi noi renderemo i nostri clienti più soddisfatti Perché sappiamo cosa vogliono da noi Per prima cosa devi capire se la tua struttura è a una clientela E per questo ti rimando alla mia playlist di hotel marketing Dove ho già trattato in tre video differenti questi tre aspetti È importante non sottovalutare questo tipo di dettagli Perché magari nella tua mente hai un'idea totalmente diversa della tua struttura rispetto a quella che in realtà è Quindi i tuoi clienti la vedono in un mondo diverso Comunque tu comunichi qualcosa di diverso Loro arrivano e trovano tutt'altro Ovviamente non devi costruire solo una buyer persona Ma ne puoi avere più di una E questo ti aiuterà nei vari aspetti, nei vari servizi del tuo hotel Ma questo ne parleremo dopo Prima di tutto devi vedere l'età Quanti anni ha? Sono ragazzini, sono giovani Sono anziani, ho un'età media È importante conoscere questo aspetto Perché ognuno di essi avrà degli atteggiamenti diversi in base proprio all'età E quindi di conseguenza arriveranno la struttura anche in modo diverso L'altra domanda che ti devi porre è se viaggiano con amici, da soli, in famiglia, collegato Tutte le domande saranno strettamente correlate tra loro Però cerca inizialmente di rispondere singolarmente a tutto ciò Quindi come viaggiano ed è importante anche questo Hai dei servizi adatti Magari tu hai una struttura dove pensi che il tuo target siano le coppie giovani senza figli E in realtà invece hai tutte famiglie Quindi magari ti converrebbe investire in un'area giochi per bambini In una piscina per bambini Li rendi anche più felici Ovvero crei dei servizi che sono più adatti a quel tipo di clientela Vissi questi aspetti poi è importante vedere anche la sua nazionalità Quindi ci sarà sempre una nazionalità predominante in alcuni posti Magari tu hai più francesi, a 100 km da te E' una località che viene preferita di più dai tedeschi ad esempio Ogni nazionalità diversa ha delle abitudini differenti Quindi ti va adesso con francesi e tedeschi non vi viene niente in particolare Ma metti che hai una clientela prettamente israeliana E nel tuo menu metti pesce con le lischie Saranno tutti i clienti scontenti Tu devi dare anche una valida alternativa Che vada incontro ai loro aspetti culturali O magari nella tua colazione non ci sono verdure Quindi l'israeliano di conseguenza dirà che la tua colazione è pessima Mentre magari potresti mettere i cetrioli, i pomodori E già così sono più che contenti Un'altra domanda a quale devi rispondere E qual è la durata media del soggiorno della tua buyer persona Perché a meno che la tua struttura non imponga magari dei soggiorni settimanali O lasciamo perdere quei periodi in cui ovviamente metti un minimum stay Ma la buyer persona ha un soggiorno tipo Quindi magari il tuo cliente tipo fa un soggiorno da tre notti Fa un soggiorno di una settimana E questo dipende anche da dove ti trovi Perché evidentemente se fanno un soggiorno di tre notti E poi si spostano in un'altra località Vuol dire che nei tuoi dintorni Molto probabilmente non c'è molto da fare, da vedere Che quindi le persone possono valutare di stare molto di più Differente è se tu comunichi loro Che invece c'è tanto da fare, c'è tanto da vedere E quindi vale la pena soggiornare una settimana da te Ma sei tu il primo a doverlo comunicare Altra domanda è tramite quali canali prenota la tua buyer persona Se ti vai a vedere ad esempio il video dove parlo della clientela leisure Te lo riporto qui in alto Ti faccio ad esempio che in questo periodo Il trend della clientela leisure è quello di puntare sulla tecnologia Quindi le prenotazioni non avvengono più che altro tramite telefono Ma viene sfruttata la tecnologia in tal senso Quindi se non ti sei adeguato devi farlo anche tu Quindi se le persone preferiscono altri canali Rispetto a quelli diretti tuoi C'è già qualcosa che non va Quindi penso che ti sarai stancato ampiamente Di regalare commissioni agli OTA O comunque abbassare i prezzi Perché hai dato determinate camere alle agenzie Quindi meglio le prenotazioni dirette Questa è un'ovvietà gigantesca Però se non ti adegui la prenotazione diretta te la puoi anche scordare Una delle domande più sottovalutate per costruire la buyer persona È con quali mezzi viaggia il tuo cliente tipo Ed è molto importante Viaggia in aereo, viaggia in auto Perché tu così nel momento in cui lo capisci Capisci le sue esigenze E sai che servizi extra Offrirli e guadagnare anche su quei servizi Quindi fare del cross sell E tu in quel caso lo puoi fare in qualsiasi modo Ma devi sapere quello che il tuo cliente vuole Metti che il tuo cliente viaggia in auto E tu non disponi di un parcheggio Ma non ti preoccupi nemmeno di proporgli un garage a pagamento Lì avrai un cliente abbastanza incavolato Perché magari si è fatto un quarto d'ora di giri Solo per trovare un posto Stai certo che io personalmente non torno in un'unità del genere O comunque mi sono andata a cercare Già secondo giorno un garage per conto mio Ma se già la reception mi viene incontro E ancora prima del mio arrivo Mi fa sapere Guarda c'è un garage Se vuoi lo prendi Se no effettivamente ti cerchi parcheggio fuori Poi lì è un problema tuo Ma io sono già venuto incontro a un tuo possibile problema Gli interessi Quali sono gli interessi del tuo cliente Tipo in questo caso ti viene incontro Il tuo front office manager Con tutto lo staff del front office Perché si puoi immaginare Quali sono gli interessi in zona Perché magari la tua Sei in una città d'arte Quindi magari le persone vengono Semplicemente per l'aspetto culturale Ma non puoi darlo per scontato E a volte le persone ci sorprendono Quindi il tuo front office Che parla con il cliente E quindi riescono a percepire delle accettature Che possono essere molto importanti per te E sempre il front office ti viene in aiuto Per scoprire quali sono i servizi Che richiede la tua clientela Tipo Quindi se viene chiesto sempre un determinato servizio Tanto vale che tu ti organizzi Di conseguenza Come dicevo prima Per proporlo tu E guadagnarci anche in questo caso Tu fornisci un servizio al tuo cliente Ovviamente deve essere un servizio di qualità Perché ricordati Tu lo stai proponendo E tu ci stai mettendo alla faccia Però intanto ci stai anche guadagnando Perché devi pensare Che comunque molte aziende Che magari sono nella tua stessa città Già si organizzano con i tarifari O per poter collaborare con le strutture E quindi già sanno Che dovranno dare una commissione Pur di essere consigliati Quindi non ti fa problemi Alza la cornetta Inizia a parlare con qualche azienda Che fornisca i servizi che a te servono In modo tale da rendere felice il tuo cliente Parliamo di gusti gastronomici Perché a volte avete il ristorante Ma il cliente è scontento Che cosa serve proporre il piatto gourmet E sappiamo benissimo che il piatto gourmet Visivamente è bellissimo Ma a molti dà il senso di povertà Nel senso che dicono Non ho mangiato niente Ho ancora la sensazione della fame Anche se a volte non è vero Ma semplicemente si lamentano Perché non hanno avuto il loro piatto di pasta Da 70 grammi ad esempio Se la tua clientela non capisce questo tipo di cucina Non fa perdere tempo allo chef E non sprecare i tuoi soldi Perché hai sprecato soldi per realizzare quel piatto Ma il cliente ne uscirà insoddisfatto E ti lascerà anche una recensione negativa Perché ricordati sempre questo concetto Le persone non sono in grado di valutare effettivamente Un prodotto o un servizio Ma vanno avanti per percezioni Quindi magari quel piatto è stato fenomenale In un boccone c'è stata un'esplosione di sapori Ma loro sono scontenti Perché ritengono di aver mangiato poco Altro aspetto importantissimo È che devi capire qual è il target di spesa della tua clientela Quindi della tua buyer persona È basso, è medio, è alto Ci sono persone che spenderebbero anche il 30% Il 40% in più Per avere un momento aperitivo degno di questo nome Per una bottiglia di vino ricercata Ma magari ci sono altre strutture Che invece hanno dei clienti Che vogliono spendere 5 euro per una bottiglia di vino E dividersela anche per i successivi giorni di permanenza Non vi stupite Ma veramente ne ho viste di tutte in giro E poi arriviamo al nome e cognome Qual è il nome e cognome della tua buyer persona? Ti stupirà questa domanda Ma è molto importante che tu gli dia un nome e cognome Sì, sarà un personaggio inventato da te In base a tutte queste caratteristiche Ma dargli un nome e un cognome Cerca di concretizzarla sempre di più Anche perché se hai definito che è la tua buyer persona Magari di nazionalità francese Non la chiamare Mario Rossi Perché quella è una buyer persona italiana Ed è differente Quindi mi raccomando Cerca di dare le caratteristiche sempre più definite In modo tale da capire dove devi puntare Con la tua comunicazione Come dicevo, puoi, anzi, devi creare più di una buyer persona Ad esempio, puoi avere due tipi di clientele Tipo, anche se ce ne sarà sempre una predominante in generale E poi ricordati sempre che potresti avere la clientela locale Magari se hai un ristorante O se hai una piscina dove accetti gli ingressi esterni E una sala ricevimenti Hai una clientela anche quindi locale Ed è importante costruire anche quella buyer persona Perché quel tipo di clientela cercherà servizi totalmente differenti Dopo che avrai definito tutto ciò Devi poi sfruttare le tecniche di copywriting giuste Perché poi devi puntare all'upsell e al cross-sell Questo non sarà una perdita di tempo Ma in realtà sarà molto utile Perché poi proponi servizi giusti ai clienti Magari puoi proporre degli upsell sapendo già cosa vanno cercando Magari hanno chiamato, ti hanno contattato con un'idea Ma in realtà tu gli puoi proporre una camera di categoria superiore E quindi di conseguenza avere un upsell Per avere la versione scritta di tutte queste domande Ti invito a cliccare sul link che ti metto in descrizione Che ti riporterà divertamente all'articolo del mio sito Spero che questo video ti sia stato utile Ti invito a mettere mi piace e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi E come costruisci la tua buyer persona Besos